Andrea è difficile oggi quello che voglio provare a fare ho capito che vuoi fare ho capito che vuoi fare perché ti ho visto che tu sei avvicinato tap davanti e caschi dentro ma ti flip dai dai Davide dai dai Davide non ce la farai oddio sono salito sul tetto ma mi ho sbagliato a fare il tap sono salito sul tetto aspetta tap e matti flip voglio fare il tap con il matti flip in ingresso che secondo me è una bella accoppiata che fai col tappetino oh qua tocca a tirare fuori là che devi dire a sfida no la linguella no devi tirare fuori la linguella ma hai visto il ginocchio era partito ma qua invece fa una cosa tipo così brutta Andrea sto provato a fare una cosa che va a raccogliere il drone come hai fatto a capirlo mi leggi nel pensiero ho capito che vuoi fare ho visto che tu sei avvicinato tap davanti e caschi dentro matti flip dai dai Davide dai dai Davide non ce la farai ma vedi se ti trana qualcosa oddio sono salito sul tetto no come sono salito ma mi ho sbagliato a fare il tap sono salito sul tetto aspetta tap e matti flip Andrea è difficile ma no dai ma è difficile perché sto storto come stai storto ma così è facile ma devo farlo ma anzitutto si può provare uno split a serie verso dai l'entrata dopo si però voglio provare a fare questo il fatto è che sto storto quindi devo rigirare il drone e devo rigirare il drone vabbè sono entrato all'indietro ma non mi viene da farlo sto matti come faccio? si viene perché è difficile allora puoi fare una cosa aspetta aspetta c'è di prova oh dai mamma mia ragazzi perché devi farlo un po' mezzo storto oh dai o il ginocchio ma prova ci va prova ci va ti chiesti proprio millimetrico giornata stupenda bando sembra proprio desolato ormai abbiamo fatto veramente tante lipo e non è apparso nessuno l'unica apparizione che può darsi che avverrà è quella dell'FPV God che ci benedirà ragazzi Levi's to beaver oh Levi's to beaver ragazzi nel bando niente beve ecco sta arrivata la polizia voi lo sapete che chi va con lo zoppo impara a volare io però ormai non sono più zoppo ma ho stimolato lui perché ha visto il DVR adesso che vuoi fare? voglio provare a far pure il tappo quello che ha fatto te il tappo con il matti di filippa che bello che è andiamola a vedere ragazzi quanto sei concentrato occhio sta a fare la torre di pisa la torre di pisa ti sta inclinando no no poco però mi sta inclinando la torre di pisa non è inclinata tanto no c'è avuto un problema si è sentito soltanto boom andiamo lì a riprender il tappo con il matti di filippa che è proprio bello quanto mi piace mi è venuta sta cosa fantasiosa che bello eccolo ci sta provando tap bot tap bot tap bot aspetta aspetta eh raga è difficile non è facile aspetta aspetta Andrea te lo rigiro io non è non è non è facile aspetta eh mamma mia c'hai l'immortal T distrutta leggi labiale immortal T distrutta no questo si chiama fratta flip ha fatto il fratta flip si è risettato si è risettato ragazzi questo si chiama il fratta flip perché non è quello che vogliamo fare noi non lo fate questo se sei messo qui così raccogli subito il drone vabbè c'ero io quello lì si chiama squiccione a casa mia eh eh so 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 però no volevo rientrare dentro come ha fatto questo attento il tito il tito forza miseria Andrea l'ansio ricordate che la corda non l'ho portata oggi non c'abbiamo la corda e non muo fai niente ma ti flip basta ha reso ma ti flip col tappo ha reso quasi quasi Andrea lo chiudi sto sicuro che lo chiudi lo chiudi lo chiudi ma come a me mi chiella chissà perché immagine stop se vede che c'è i cavi se stanno a cede l'antenna vabbè basta io me sto zitto perché se no gli faccio rompendrone raga sto zitto sto zitto sta cede l'antenna mi sa ah no si è staccata lì si è staccata lì ce l'hai in cacciavita a portata di mano no una volta sì c'è stavano i vecchietti dei paesi col miglior appuntito con l'unghia così lunga e ci girano il caffè quello è buono pure per allargare l'XT che c'è dici tosto tosto veramente tosto tosto cioè ti faccio un tutorial va su questo eh ma questi sono tutorial avanzati questi molto più da però secondo me questo non so la tutoria una volta che stai fare il matti flip sei te che devi eh però non è facile perché sai il matti flip se ti viene a comando completo è un discorso ma fallo su un tap è tosto è diverso capito non è la stessa cosa sì sì è tosto è tosto bollici 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 non si fanno comprare un po' io di bollici su banggood su banggood fifì fatto top e matti flip io direi che ho finito ragazzi oggi gli abbiamo proprio dato in questo bando carino carino non proprio diciamo il top del top ma c'ha parecchie cose che ti stimolano la creatività ti fanno fare trick veramente simpatici e anche difficili e poi si va a bomba quindi mi sono divertito basta basta direi anche l'ultima lipo è tornata a casa per fortuna ma secondo me è tornata a casa solo perché era una lipo un po' spompata un'altra lipo da archiviare e d'altronde l'anno è finito e insomma un po' di lipo ci saluteranno ragazzi funziona così queste sono le eliche che ho distrutto io queste sono le eliche che ha distrutto Andrea che è stato quasi sempre a cambiare props due lipo completamente morte ma secondo me c'erano altre due io da da buttare che so scrause almeno se vuol dire che torniamo a casa con i droni intatti va l'altra volta non l'abbiamo potuto dire ci è andata che roba mamma mia ciao 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 Grazie a tutti.